In questo video parliamo del Living Coral, colore dell'anno 2019 e di qualche idea per abbinarlo attraverso 5 palette. Anno nuovo, scenografia nuova, benvenuti a Matrimoni con l'accento. Oggi parleremo del Living Coral, il colore dell'anno 2019, eletto come ogni anno dalla Pantone, un'azienda che di lavoro definisce e crea colori. Non so se l'avete già visto, se ne è già un po' parlato su internet, è un colore bellissimo, che nasce da un'ispirazione naturale, il corallo. E l'idea è proprio quella, Living Coral, di un corallo che vive, perché il corallo effettivamente è un essere vivente, quindi pieno di energia, di positività, un colore bello, caldo, ma non troppo. Non è un arancione di quelli strong, è anche forse un pochino rosato, adesso ve lo faccio vedere, ma la particolarità del Living Coral è che ha anche un sottofondo dorato, come la Pantone l'ha definito. È un po' l'idea del sole che filtra attraverso l'acqua nel mare e illumina il corallo, un effetto stupendo. Eccolo qui, questo è Living Coral. In natura non è che troviamo il corallo dorato, quindi una rosa sarà corallo o non sarà corallo dorato, allora ho pensato di creare delle palette partendo da due colori, non da un colore solo, appunto dal corallo nel tono di colore preciso che hanno scelto alla Pantone, più l'oro. Perciò adesso vedremo 5 palette, tutte che hanno di base questi due colori. Non so se avete visto il video che avevo fatto l'anno scorso per il colore dell'anno 2018, e apro e chiudo la parentesi, se non l'avete fatto vi consiglio di vederlo, perché al termine del video do dei consigli per un utilizzo concreto e corretto dei colori, quindi vi metto il link in descrizione. Lì ero partita anche spiegando che le palette sono fondamentalmente di due tipi, le palette in sfumature di colore e le palette che invece utilizzano dei contrasti di colore. E anche oggi voglio partire da una palette che io trovo veramente stupenda in sfumature di colore, in questo caso sono le sfumature di due colori, del corallo e dell'oro. E quindi avremo un corallo abbinato al pesca e l'oro abbinato ad uno champagne, ad un avorio, senza avere preponderanza di bianco, quindi sono tutti colori molto caldi. Ecco, la state vedendo? Io la trovo una palette veramente molto raffinata ed affascinante, non perché l'ho fatta io, ma perché penso che l'abbinamento di questi colori parli da solo, spero che vi piaccia. Però ci sono le spose più tradizionaliste che fanno fatica a immaginare il matrimonio senza il bianco, magari perché hanno scelto un abito proprio bianco, non più panna, non champagne. Adesso si trovano anche tanti abiti da sposa color champagne, invece c'è la sposa che dice no, per me il matrimonio è bianco. E allora ho pensato a questa palette che state vedendo con l'introduzione di un bianco in maniera importante, quindi una palette più chiara, più luminosa, dove il bianco forse è il colore fondamentale e il living coral diventa invece un complemento. Se invece siete delle spose che vogliono stupire con un matrimonio molto glamour, magari che si svolge di sera, sicuramente questa palette è più adatta di sera, possiamo andare a introdurre un colore non colore in realtà molto forte, ovvero il nero. Ma il nero in maniera preponderante, quindi che avrà una scena importante nel ricevimento del matrimonio. Andiamo ad aggiungere un piccolo tocco di bianco perché altrimenti sarebbe tutto troppo scuro, però guardate che effetto fa questa palette, io la trovo veramente stupenda. Ci vuole la sposa adatta, non è per tutte, però è veramente bella. Tra l'altro riparleremo del nero in un prossimo video dove parlerò di wedding cake. Ma se il nero proprio non fa per voi perché lo collegate a un discorso di lutto, siete molto tradizionaliste, però dall'altro lato vi piacerebbe l'idea di un colore scuro da abbinare al corallo, sicuramente uno degli abbinamenti più interessanti, anche già un po' più utilizzati in effetti, è l'abbinamento con il blu nevi, quindi corallo e blu nevi sono due colori che vanno insieme da tanto tempo perché richiamano comunque un qualcosa di marinaro, uno stile marinaro, anche se è molto elegante. Con l'aggiunta dell'oro sicuramente gli andiamo a dare un tocco in più. E infatti guardate questa palette, secondo me anche questa, molto bella. Ultima ma non ultima, forse la mia preferita, non lo so perché sono tutte mie creature un po', quindi mi piacciono tutte, è una palette più fresca che va benissimo per i matrimoni al mare, ma anche matrimoni diversi, però va ad unire insieme dei colori che richiamano proprio anche l'acqua del mare ed è l'aggiunta al Living Coral del bianco e del verde menta. Io in questo caso state vedendo appunto la palette con il verde menta perché lo trovo un abbinamento molto bello, in realtà potreste andare anche un po' più sul turchese, sul verde acqua, quindi scegliere un po' tutte quelle tonalità che richiamano i colori del mare, ci stanno bene tutte. Però trovo che il menta sia il più fresco di tutti, quindi ho scelto di farvi vedere quello. Ecco queste sono le cinque palette che ho scelto per voi e spero che almeno una vi abbia stimolato, vi abbia fatto venire voglia di usare il Living Coral per il matrimonio, che è un colore veramente stupendo, quindi non perdete questa occasione di essere alla moda con un bel colore. Se mi seguite su YouTube iscrivetevi al canale, se invece mi seguite sul vlog iscrivetevi se volete alle news con l'accento per non perdere neanche un video. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!